Ma da queste misure del governo chi ci ha guadagnato? Beh, di sicuro ci hanno guadagnato le imprese, di sicuro ci hanno guadagnato quelli che anziché investire hanno continuato a speculare. Ben trovati amici di Fanpage a Lecce, alle giornate di lavoro della CGL, nel nostro studio a Piazza Santo Ronzo, ci è venuto a trovare Maurizio Landini, ben trovato. Grazie, grazie a voi e ben trovati voi qui a Lecce. La discussione che affronterò durante le giornate del lavoro si parlerà di politica industriale. Perché sono vent'anni che noi non abbiamo politiche industriali pubbliche, in questi anni è stato scelto di dire che se le imprese avevano meno vincoli, potevano fare quello che volevano, le cose sarebbero andate meglio. Hanno fatto una politica di incentivi alle imprese e continua a mancare un'idea di sistema, di sviluppo, dove anche lo Stato e il Governo abbia un'idea, l'idea della mobilità, l'idea dell'energia rinnovabile, un'idea dei trasporti. C'è una novità assoluta che è la sostenibilità ambientale di quello che si produce, di quello che si fa. Questo porta anche a un sindacato industriale come il nostro a doverci porre il problema di coniugare la produzione con la sostenibilità ambientale. Quindi bisogna aprire una discussione anche su cosa si produce, come si produce e sono aumentate le diseguaglianze tra i cittadini, ma sono aumentate le diseguaglianze anche tra i territori. Il problema del mezzogiorno e del ritardo che c'è e della disoccupazione che esiste è un problema nazionale ed europeo. Il Governo si appresta a varare una nuova misura che riguarda la decontribuzione per le imprese, in particolar modo riguarda i giovani tra i 29 e i 32 anni. Lei ha avuto modo di attaccare queste misure che negli ultimi 4 anni sono già state promosse dal Governo? Io credo che siano sbagliate e siano anche ingiuste e non producono risultati, perché questa l'abbiamo visto. Col Job Act sono stati trasferiti alle imprese qualcosa come 40 miliardi, tra una balla e l'altra, tra forme di decontribuzione varia. Se vai a vedere, le imprese che hanno ricevuto questi vantaggi, gli investimenti fatti sono semplicemente tra i 2 e i 3 miliardi. Allora io capirei se fossero finalizzati, selettivi. Io li do a quelle imprese che li rinvestono dentro all'impresa, che li rinvestono nel nostro paese per fare lavoro. Fatti in questo modo, secondo me, sono soldi che semplicemente vengono regalati. Un giovane oggi cosa ha? È precario. Quando trova un lavoro stabile può essere licenziato perché non ha più l'articolo 18. Con la decontribuzione ti riducono anche i contributi, così sei sicuro che non hai neanche la pensione. Io questo la trovo una cosa inaccettabile e sbagliata. Parlare di 40 miliardi non sono pochi. Proviamo a vedere se questi 40 miliardi, anziché essere decontribuiti o regalati, fossero stati investiti dal pubblico. Fossero stati investiti per un piano straordinario di manutenzione del territorio. Fossero stati investiti per portare la banda larga in tutto il paese dove non c'è. Fossero stati investiti sul lavoro di cura e di sostegno alle persone, che oggi è un problema molto sentito e diffuso. Fossero stati investiti per fare la formazione per le persone che debbono lavorare. Con le nuove tecnologie c'è bisogno che la formazione diventi un diritto soggettivo permanente per i giovani e per gli anziani. Ma da queste misure del governo chi ci ha guadagnato? Di sicuro ci hanno guadagnato le imprese. Di sicuro ci hanno guadagnato quelli che anziché investire hanno continuato a speculare. In molti la individuavano come un possibile connettore della sinistra politica nel paese. Lei dopo la FIOM adesso ricopre un nuovo ruolo, segretario confederale della CGL. Perché ha scartato quell'ipotesi? Era poco attraente. Per tal meccanico ho sempre fatto il sindacalista, sono stato impegnato nel sindacato e io sempre credo che il problema esista. Io ho sempre detto che non c'è più una rappresentanza del lavoro. Io mi sono sempre rivolto anche alle forze politiche con l'autonomia e il rispetto che ci vuole, col fatto che c'è bisogno di ricostruire l'unità del mondo del lavoro, che oggi non c'è. Vuol dire unire i giovani, vuol dire unire i precari, vuol dire unire tutto il mondo del lavoro, impedire che ci sia una competizione su questo versante. Io non lo so, adesso io penso che il problema non è tanto, bisogna uscire anche della logica che c'è bisogno dei leader, no? Non perché non ci vogliono persone autorevoli, ma perché oggi io quello che vedo è una frantumazione, una divisione. Non ci sono luoghi in cui le persone assieme si possono organizzare per cambiare la loro condizione. Quello che sta avvenendo a sinistra in questi mesi con il dialogo fra diverse forze, MDP, sinistra italiana, possibile, secondo lei è di buon auspicio per la costruzione di un fronte unito? Guarda, tutto ciò che prova a unire ciò che oggi è diviso, io credo che sia un fatto positivo. Non voglio banalizzare nulla, ma io credo che il problema oggi non è semplicemente mettere assieme delle sigle. Oggi secondo me c'è un'esigenza più profonda, che è mettere di nuovo assieme un mondo che oggi è frantumato e diviso. Io sento anche le necessità di un cambiamento del sindacato e il contributo che io voglio dare per l'esperienza che ho fatto in questa direzione. Bene, grazie a Maurizio Landini di essere stato con noi. Alla prossima. Grazie, grazie a voi. Alla prossima.